In questa puntata di XXI secolo abbiamo cambiato un po' il nostro format facendo sedere intorno a questo tavolo contemporaneamente due ospiti istituzionali vediamo chi sarà il secondo interlocutore di XXI secolo Già sottosegretaria all'istruzione, Barbara Floridia, siciliana, laurea in lettere moderne insegnante di italiano e latino, è proprio la passione per l'insegnamento che la porta in giro per l'Italia Bologna, Vicenza, Palermo, amante dello sport con un passato a livello agonistico nel ballo sportivo Dal 2018 è una delle senatrici di punta del Movimento 5 Stelle Poco meno di un anno fa è stata eletta presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza della RAI È la seconda donna alla guida della bicamerale, dicono di lei, predisposta al dialogo, studiosa e difensore del ruolo del servizio pubblico Buonasera a Barbara Floridia, benvenuta anche a lei a XXI secolo, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI Intanto mi consenta di augurarle buon compleanno perché so che oggi lei compie gli anni, facciamogli gli auguri direttore Grazie, buonasera Allora, spieghiamo ai nostri telespettatori qual è il ruolo della Commissione parlamentare di vigilanza e di indirizzo sulla RAI I telespettatori sentono parlare spesso della Commissione di vigilanza quando ci sono polemiche Ma in realtà la Commissione oltre a vigilare ha un compito importante Quello di dare gli obiettivi al servizio pubblico da perseguire Condividere con la RAI quelli che sono chiaramente gli obiettivi importanti per la crescita culturale del nostro paese Questo per me è la funzione più importante Chiedo anche a lei di esprimere un suo pensiero su questo doppio anniversario della nostra azienda Beh, la RAI, si dice sempre, è stata la mamma, è la mamma degli italiani, è anche stata la maestra Ecco, io mi auguro che questo compito, soprattutto di maestra, possa evolversi e continuare a esserlo anche nel futuro Allora, con questi due autorevolissimi ospiti cominciamo il nostro viaggio nella storia della RAI Tenendo insieme radio e televisione ma procedendo per genere, ovvero per tipologie di contenuti e di programmazioni Presidente Florida, lei sta organizzando gli stati generali del servizio pubblico Per quale motivo? E ci anticipi qualcosa se può? Sì, intanto permettetemi dopo questo filmato di dire che è emozionante Sapere, rivedere come il servizio pubblico racconta anche la tua storia personale Perché dietro quelle immagini c'è anche il ricordo di ogni giorno della mia vita, di fasi della mia vita I stati generali in armonia con la Commissione, in armonia con la RAI Abbiamo deciso di metterli in piedi perché adesso è necessario, soprattutto dopo l'adozione Che probabilmente avverrà a breve del Freedom Media Act, quindi questo regolamento europeo Sarà necessario rivedere la governance, quindi le dinamiche della governance per l'Italia E questo non si può fare se non mettendo al tavolo tutti i partiti politici Per poter trovare insieme una giusta nuova modalità per garantire al servizio pubblico la libertà dai partiti E quindi quel pluralismo di cui ha bisogno E inoltre anche questo è fondamentale delle risorse che possano essere stabili e adeguate Presidente Floridian, la sua opinione su questo? Ma la Commissione di Vigilanza ha un compito fondamentale Dobbiamo sicuramente vigilare affinché ciò che il direttore Rossi diceva possa davvero realizzarsi E si realizzi e chiaramente non abbiamo potere sanzionatorio Una cosa molto interessante è quella di assicurarci e di accompagnare anche la RAI In questa trasformazione dei linguaggi Perché oggi sempre di più c'è un cambiamento anche cognitivo di apprendimento Di volontà, di intrattenimento che è diversa da quella che abbiamo vissuto noi Per cui se la RAI riuscisse a cavalcare questo cambiamento Senza abbassare il livello dei contenuti E mantenendo, anzi implementando sempre di più il pluralismo anche dei temi Non solo delle presenze politiche Penso che questo potrebbe essere un bel risultato per il servizio pubblico Che è un bene comune Questo è importante dirlo Presidente Floridian, riparto da lei E glielo chiedo più da telespettatrice che da Presidente della Commissione Parlamentare Di Indirizzo e Vigilanza sulla RAI Cosa le piace di più di Sanremo? Ma da sempre le canzoni Perché io amo la canzone italiana E quindi anche se c'è tutto uno spettacolo che racconta il nostro paese Di Sanremo a me piacciono proprio le canzoni Le aspetto Secondo lei quali sono gli elementi che garantiscono la qualità dell'intrattenimento? Sicuramente la scelta dei linguaggi Ma anche la capacità che la RAI, devo dire, ha sempre avuto Di trasmettere anche quella sana gioia dello stare insieme Del divertirsi sano Di cui abbiamo molto bisogno anche in prospettiva di una coesione sociale E poi permettetemi anche un po' di umorismo intelligente Che fa sempre bene E ci sono oggi anche delle trasmissioni di intrattenimento che lo garantiscono Presidente Floridian Ma per me forse, anche se con difficoltà, insomma, cerco di sceglierne uno tra i tanti Fantastico Sì, per me è stato uno spartiacque E' un varietà che mi ha introdotta nel mondo, diciamo, della gioia televisiva La ballerina che in lei esce fuori sempre Però mi permetta, la RAI, quindi il servizio pubblico, ha un compito preziosissimo Che è quello di conservare anche la memoria Perché oggi con il digitale abitiamo un costante presente, un continuo presente Che cancella tutto il resto E invece la memoria è preziosissima E la RAI ha anche questo compito Il tecnicamente, Presidente Floridian Noi diciamo, noi che lavoriamo in questa azienda Che la nostra sfida in questo momento è trasformarci da broadcaster a digital media company Vuole spiegare lei ai nostri telespettatori che cosa dobbiamo fare? Allora, in questo momento in cui, come diceva il direttore, non esiste più il palinzesto come una volta Sono cambiate le abitudini Prima erano i cittadini ad aspettare il film, ad aspettare lo spettacolo E insieme ci si sedeva intorno al televisore Adesso è proprio cambiata la fruizione E i cittadini costruiscono il proprio palinzesto Siamo nell'era del post-palinzesto In cui ciascuno cerca ciò che desidera nel momento in cui ha il tempo di potersi sedere a godere di un film, per esempio Quindi la RAI deve riuscire, come sta facendo con Rayplay A costruire dei palinzesti che possono essere poi utilizzati dall'utente finale Nel momento e nel modo in cui il cittadino gradisce utilizzarli Insomma, io ricordo ad entrambi che spesso nel Festival di Sanremo Si sono anche affrontati temi di grande attualità politica, internazionale, questioni sociali, no? Presidente Floridia Il palco dell'Ariston è anche il palco degli italiani e dell'Italia Quindi quando l'arte si esprime è anche corretto che racconti il sentimento di un paese Anche i disagi e le difficoltà e perché no anche i cambiamenti sociali e evolutivi Quindi ci sta ed è giusto che accada questo Presidente Floridia, dica la verità, i telespettatori hanno un po' di nostalgia del maestro Manzi È possibile, ma oggi sarebbe un youtuber, diciamo Adesso dobbiamo trovare un maestro Manzi che possa aiutare i cittadini verso l'alfabetizzazione digitale E quindi sicuramente faremo in modo e chiederemo alla RAI che nuovi maestri Manzi Possano aiutare i cittadini a trovare nuovi linguaggi E mi permetta, la divulgazione scientifica è fondamentale perché nelle democrazie compiute Quando hai consapevolezza della scienza e della storia Hai gli strumenti per essere davvero un cittadino Identità nazionale, Presidente Floridia Ma anche un altro tema molto importante che è quello della coesione sociale La capacità di tenere insieme situazioni diverse Abitiamo un tempo in cui ciascuno è isolato Vive isolato con il proprio telefonino, col proprio profilo social È un nuovo proletariato che non si unisce perché non trova temi comuni Allora cosa deve fare il servizio pubblico? Deve aiutare affinché esista una coesione sociale Che non significa soltanto mettere insieme il diverso, i diversi Ma anche trovare insieme un immaginario comune secondo nuove esigenze Questo è secondo me un tema fondamentale Tanto quanto, se non di più, quello dell'identità Perché l'identità si può anche creare e rinnovare ogni volta Insomma, lo sport è tante cose Ma attraverso questi filmati emerge soprattutto la dimensione ludica La dimensione valoriale e sociale, no? Sì, lo sport è anche coesione sociale La RAI deve continuare, deve sempre di più fare In modo che lo sport sia fruibile a tutti i cittadini Non solo il calcio Perché lo sport educa anche le persone alla sofferenza Alla disciplina, all'impegno, alla costanza E questi sono tutti i valori che poi aiutano anche le persone nella vita Quindi ha una valenza formativa anche guardare lo sport Adesso, a parte le battute Presidente Floridia, come commenta questo filmato? Guardi, io non ero abituata ad andare in televisione Ovviamente ero sempre al di là del televisore da spettatrice E adesso in questo ruolo che mi ha anche concesso e permesso di venire in televisione Ho avuto una grande opportunità Mi è stata data una grande opportunità E non è quella di stare davanti allo schermo dentro la televisione Chiamiamola così Ma di poter conoscere parte dei 12.000 lavoratori Che fanno grande la RAI Fanno grande il servizio pubblico Quindi a nome della Commissione io li ringrazio ad uno ad uno Ho avuto modo di conoscerne alcuni Che con la loro gentilezza e professionalità Mi hanno fatto capire quanto preziosa sia la RAI Non soltanto come strumento di democrazia Come servizio pubblico Ma come azienda da salvaguardare e proteggere E qui la politica ha una grande responsabilità E ce l'ha anche il CDA che deve proteggere questi lavoratori preziosissimi Quindi solamente grazie Il management aziendale